Buongiorno ragazzi, oggi abbiamo aperto una nuova attività, un nuovo canale per poter rimanere in contatto, si chiama proprio così, Restiamo in contatto, è un indirizzo email, restiamo.incontatto.chiocciola.icmarcellocandia.net ed è un indirizzo che vi invitiamo ad utilizzare, proprio voi bambini, ragazzi, per scrivere ai docenti, inviare i compiti, raccontare un po' come passate le giornate, insomma un po' per restare vicini. Per poter utilizzare questo strumento è necessario che vi spieghiamo in maniera semplicissima come si utilizza e come si invia una mail. Allora voi dovete chiedere ai vostri genitori di aprirvi la pagina del computer dove, che solitamente utilizzano per inviare le mail. Se qualche genitore non avesse ancora un indirizzo email, a breve, diteglielo, pubblicheremo un tutorial per spiegare loro come fare, perché in questi tempi è proprio necessario avere un canale di comunicazione immediato e semplice. Allora, noi siamo rimasti che chiedevamo ai genitori di aprirci la pagina del computer, dove ho dello smartphone, dove ho del tablet, dove loro vanno per poter mandare una mail. Adesso io apro la mia, che è questa qua. La mia è un mio indirizzo, ha un'estensione gmail, e per cui la pagina che mi si apre è questa qui. Cliccando su questo tasto dove c'è scritto scrivi, si apre una finestra qua. Ripeto, questo è il format di gmail, ma tutte le altre estensioni vanno bene uguali, tanto il principio è sempre quello. Nella finestra che si è aperto, io ho già iniziato a scrivere qualcosa, ma adesso la rifacciamo insieme. Allora, si aprono tre spazi. Qua c'è scritto destinatari, qui c'è scritto normalmente oggetto, e qui rimane bianco. Cosa dobbiamo fare? Qui dove c'è scritto destinatari, dobbiamo scrivere l'indirizzo mail della persona con cui abbiamo parlato, vogliamo parlare. Attenzione perché l'indirizzo mail non è l'indirizzo di casa, quindi se lo mandate in via Ravenna 33, il vostro messaggio non arriverà mai. È necessario fornire un indirizzo informatico. In questo caso, quello che vi ho dato prima. Restiamo, io sono un po' lenta, eccolo qua subito, lo mettiamo. Restiamo in contatto, lo faccio rivedere, è scritto qua. Restiamo in contatto, restiamo.incontatto.chioccio.icmarcellocandia.net Ci siamo? Quando abbiamo scritto questo, lì dove c'era scritto A, noi possiamo già spedire la mail, però è necessario che questa persona che ci leggerà che cosa vogliamo dirgli, perché l'abbiamo scritto. Qui accanto c'è scritto CCN e C. Allora, se io clicco qui, si apre un altro spazio e posso inserire altri indirizzi mail, vuol dire per conoscenza, per fargli sapere che io ho mandato una mail. CCN fa la stessa cosa, posso scrivere altri messaggi, altri indirizzi mail, scusate, però le persone che leggono non sono visibili a tutti gli altri. Io direi che questi tasti qui, per il momento, voi potete anche non utilizzarli. Limitatevi a scrivere qui questo indirizzo mail. Sotto, dove c'è scritto oggetto, è necessario che scrivete perché state scrivendo questa mail. Allora, io ho scritto, è un messaggio che voglio mandare al maestro Carlo, e gli dico anche che il maestro Carlo insegna nella seconda di Polesine. Questo serve a me che leggerò la mail e quindi potrò facilmente capire a chi devo girare il messaggio che voi manderete. Poi, finalmente, possiamo iniziare a scrivere qua sotto il messaggio. E' chiaro che ogni volta che io devo scrivere, devo mettere il cursore nello spazio e poi digitare dalla tastiera. Ed appare la scritta. Questo vale sia per quando inserisco l'indirizzo, sia per quando metto il motivo per cui sto scrivendo, e per il messaggio stesso. Ciao maestro, ti scrivo perché voglio mandarti i compiti, oppure voglio dirti che mi manca tanto la scuola, oppure vorrei raccontarti in poche parole come sto passando le mie giornate. Vedete voi. Quando il messaggio è stato scritto, arriva il momento che posso inviarlo. Però prima vi voglio dire due cose. Se io clicco qua, mi si aprono diverse indicazioni. La cosa, forse un pochino, che può piacere a voi, è, questo vuol dire il corsivo, questo vuol dire, il grassetto, scusate, questo vuol dire il corsivo, questo vuol dire sottolineato, e con questa freccina si apre la possibilità di cambiare il colore dell'escritta, in questo caso, oppure di evidenziarla. Per poter fare queste cose, è sempre necessario mettersi sulla parola di cui voglio cambiare la formattazione, tenere il mouse destro pigiato, scorrerci sopra, evidenziandolo così. Allora, poi e dopo, cliccando, la scritta diventa corsivo, il grassetto diventa corsivo, la posso sottolineare, volendo, posso anche cambiargli il colore, facendola diventare, ad esempio, rossa, o marrone scuro. Un'altra cosa che voglio farvi vedere è questa icona qui, si aprono degli emoticons, posso scegliere gli emoticons che mi piace e quella appare. Ci siamo? Poi basta cliccare a vuoto sul messaggio e tutto sparisce. Infine, l'ultima cosa, nel caso voleste allegare qualche motivo, qui dove c'è la graffetta, clicco, si apre il mio computer e scelgo la cosa che voglio allegare, ad esempio questa qui, la evidenzio, poi scrivo apri. A questo punto, nel messaggio email, si carica il banner della iniziativa restiamo in contatto, piocciola, icmarcellocagna.net La mail è pronta, invio. E voilà. E adesso va. Siccome io sono già aperta nella casella restiamo in contatto, vi faccio vedere che la ricevo, vedete che l'ho ricevuta, per cui se io la apro, ecco che trovo l'email che voi avete mandato. Quindi, siccome io le apro tutte, scrivete, scrivete, scrivete. Ciao!